Chissà perché è successo a me, è successo a te, ma perché bisogna sempre arrivare a questo punto in cui ormai si è dato tutto, perché solo lui vuole tutto, il tuo coraggio, il tuo entusiasmo e con rispetto aspetta che sia tu a dire basta. Il sogno vuol sentire che sei pronto e allora diglielo, si sono pronto e con rispetto aspetta che sia tu a dire basta. Chissà perché Che quando pensi sia finita ricomincia sempre la vita, chissà perché quando dici ora basta succede qualche cosa e ritorna la speranza. È successo a me, è successo a te, ma perché bisogna sempre arrivare a questo punto in cui ormai si è dato tutto, perché il sogno lui vuole tutto. Il tuo coraggio, il tuo entusiasmo e con rispetto aspetta che sia tu a dire basta. Il sogno vuol sentire che sei pronto e allora diglielo, si sono pronto e con rispetto aspetta che sia tu a dire basta. E con rispetto aspetta che sia tu a dire basta. E con rispetto aspetta che sia tu a dire basta.